Sono l'unica ragazza della mia specie. Ho la peste. No, non hai la peste. Ma anche se le persone non si ammalano più, non significa che il mondo sia migliore. Non ne ho mai viste altre come me. È piccolo. Sì, era appena nato, quando è successo. Sai che ti dico? Mi piace noi due da soli. Sì, anche a me. Bene. Serve aiuto? Chi c'è là dietro? È mio... è mio figlio. Un bel giovane. Non cerchiamo compagnia, signore. Lo immagino. Mi cercano perché sono una ragazza. In queste camere ci sono i letti. Lo so. Possiamo restare? Mi sembra un posto sicuro. Chi c'è? Che cosa volete? Ci lascia entrare, si gela! E così siete in viaggio da molto tempo. Non ce la faccio. Sto a lei sempre vicino. E se ti fanno del male? Io non ti lascerò mai. Se qualcuno mi fa del male, mi lega, mi accoltella e mi butta in fondo all'oceano. Io mi libero. Torno su. E vengo a cercarti. Perché sono tuo padre. C'è parte. Grazie per la visione!